Prima la discussione presto degenerata in una serie di offese e minacce, poi dalle parole si è passati ai fatti e davanti a donne e bambini di passaggio sono volati pugni, calci e schiaffi. È accaduto ieri mattina a Palese, frazione costiera di Bari, dove due migranti sono stati protagonisti di una rissa davanti a un supermercato. La lite, che è stata immortalata dalla videocamera del cellulare di un passante, pare sia partita per una discussione su chi dei due avesse diritto a chiedere l'elemosina ai clienti del supermercato Primo Prezzo di Via Duca d'Aosta, davanti al quale si è scatenata la rissa. Nelle immagini si vedono i due uomini esibirsi in calci volanti, cadute e attacchi, davanti agli sguardi sconcertati dei passanti. I due migranti, dopo aver fatto passare un'automobile, sono stati fermati dalle urla di alcuni residenti che li hanno invitati senza troppi giri di parole e minacciando di chiamare i carabinieri a interrompere la zuffa. I protagonisti della rissa si sono allontanati dalla zona, ma non è chiaro se abbiano continuato la discussione altrove.